La situazione è questa al momento. Intanto però, in attesa di questo primo approfondimento, se la regia è d'accordo, andiamo sulla notizia del giorno a livello nazionale, cioè sulla morte dei tre vigili del fuoco e del ferimento di un altro vigile del fuoco e di un carabiniere. Tutto questo è avvenuto a Guarniento, in provincia di Alessandria, perché c'è stata una chiamata, una fuoca di gas, in un'abitazione tra l'altro diroccata, quindi abbandonata, l'esplosione e quindi la tragedia. Sentiamo il pensiero di Carmelo Barbagallo a proposito di questa ennesima tragedia, che è anche l'occasione per ribadire ancora una volta alle istituzioni che i vigili del fuoco si muovono nella precarietà di strutture e anche per quel che riguarda anche di forze sul campo. Sentiamo Carmelo Barbagallo. Tre colleghi morti ad Alessandria a causa da un'esplosione, a quanto pare causata di natura dolosa, torna nuovamente in mente quel tragico 20 marzo 2018 dove persero la vita Doria Ambiamonte, Giorgio Grammatico e rimasero feriti Marcello Davornina e Giuseppe Cannavò. Purtroppo questa volta a perdere la vita tre giovani colleghi, altri due feriti tra di cui uno catanese. Noi ci stringiamo vivamente al dolore dei familiari e ci stringiamo forte a tutto il corpo nazionale. Ricordiamo che noi vigili del fuoco siamo totalmente abbandonati dallo Stato, non abbiamo una copertura assicurativa, non abbiamo INAIL, siamo quelli delle pacche sulle spalle. Ma oggi il nostro dolore vale più della polemica. Noi non possiamo accettare che dei lavoratori non ritornino più a casa. Noi vogliamo sicurezza, vogliamo certezze, vogliamo che chi di dovere dia ai vigili del fuoco il rispetto che meritano. Ci stringiamo nuovamente con tutto il cuore vicino ai familiari che attualmente stanno soffrendo questo gravissimo lutto. E queste dunque le parole accorate di Carmelo Barbagallo che fa parte del sindacato regionale dell'USB, vigili del fuoco. Torneremo a parlare, come abbiamo sempre fatto all'interno dell'informazione raccontata, delle questioni legate all'emergenza nella quale si dibattono appunto i vigili del fuoco, soprattutto a Catania ma anche in altri distaccamenti della provincia, oltre che della regione.